Siamo nella seconda parte della partita, il secondo tempo della Siamo in online contro una persona B, bang, bang, si, bom, 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 scusate, è il nome Veramente insuperabile questi interventi difensivi Attenzione Giordi Alba Che ci prova Attenzione Buschetti, cosa ha fatto? Attenzione Messi, ci prova Messi Che cazzo fai Messi, proprio Dai va bene L'ho vista dentro, dice, l'ho vista dentro al centro, al centrocampo stavo segnando Da centrocampo, mio dio, suare che me Mamma mia, stava entrando, si è buttato anche il portiere Dani Alves, con Kirchner E intanto notizia ufficiale Vabbè la notizia è A giugno, a giugno Tevez se ne va al Boca e giugna Come è stata non c'è E non ha detto a Moratti A Moratti Che va bene Moratti Benzema Ma Rozza Ha detto che il prossimo anno a giugno Aspetta l'arrivo dei compagni Non vuole più il manetto E se ne va Dove è Trova a rubargli il pallone Messi 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 Che gol 25 metri 25 metri 25 metri Che gol Anche incivolata da 25 Da 20 metri di incivolata Mamma mia Incivolata per terra E poi segna da Provo 20 metri Neymar Pallo fischiato Il giocatore del Real Madrid Sarà punizione Ho scivolato E poi ha tirato Così scivolato Sei Messi Messi Facciamo la messa Benzema Amen Oh Mi tocca qua Ronaldo Goli Codi Ronaldo Croos Ronaldo Ha paura No I am solo di caccia Paura Caccia di punizione Dunque In Barcellona Intanto In GTA Ragazzi ho incontrato Z-Will Io ho parlato Ho parlato con lui Veramente Occhio alla botta Pallone Che trova il pano Palla ancora buona Non è entrata la palla Prova a sorprenderlo Respinge il difensore Messi Tiro respinto Ma la palla è ancora in gioco Devo mettere però il caricatore Se sto fermo Cristiano Ronaldo Racky Messi Ma vabbè Lo metti di merda Vai a fare la messa Attenzione Benissimo Di merda Ma che cosa fai? Grande Giordialba Qua interviene bene Giordialba Mi spacca le gambe Ma Cosa non ho toccato Non ho toccato Pepe Peperone Peperone Ma sta merda qua Ma sta merda Uh adesso segniamo anche lui Da 20 metri Proprio così Brava segnare Messi ci prova Messi che cazzo stai facendo Se ti stai facendo Marcello Madonna Messi No Messi Messi No Messi Sto farò Sto tiro di merda Di testa Neymar Ma quanti anni Neymar Come tiri di testa Messi Non ci posso credere Check Tocco di ritorno Cristiano Ronaldo Comunque c'è Oggi ho fatto le visite medica Ma Giorgi Dianni E' andata Nina Finalmente Finalmente Eh Cristiano Oh Ronaldo Mi ha segnato Mi ha segnato Che culo Di merda Che ho Ho beccato Le Rale Fallo 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 Falloso 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 Fallo E Sergio Rame E' stato munito Invece Un figliere Pleno Uccido Di Carrano Busca Questa rimessa Dal fondo Può essere Uno degli ultimi episodi Della gara Si profila Una vittoria Per il Barcellona Ancora pochi Gini di trancetta E poi Comunque vi ricordo Sempre di passare Nei canali Di San Centro Capiti Di Accuso Ballabio E come sempre Mi ricordo Di passare Nel canale Digital Pro E di Jack Ermeyer Come sempre Mi ricordo Mi ricordo Ma sempre Vabbè Cioè Dei falli così Non mi da rigore Ricordo Di iscriversi A questi Canali Qua No Buscaz Però Può canare Tutti che Scivolano Che falle Che cadono Per terra Anche Gli avversari Gli avversari Suarez Suarez Se potrebbe Ricciare Pichè E vabbè Comunque Finisce la partita Sul risultato Di 1 a 0 Mi piace Ad avuto L'inizio Di stagione D'avuto Mi piace E per un prossimo Invisore Vi ricordo Di iscriversi Nel canale Di Jack Ermeyer Francesco Capizzi Jacopo Ballabio E Falco Reale 06 Noi Ci vedremo Alla prossima Anche di Digital Pro Noi ci vedremo Alla prossima Video Bella D'avuto 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 Grazie.